e allora eccoci ancora qui con la nostra maratona donne e lavoro donne scienza leggo subito il titolo c'è ancora molto da fare beh c'è ancora molto da fare in più ambiti in più settori questo lo abbiamo già stabilito anche nel corso di questa lunga maratona che sta proseguendo su le fonti tv ma lo sapevamo già insomma diciamo che questa è solo l'occasione per ribadire quello che bisogna fare per proiettarci verso un futuro più sostenibile a 360 gradi ma questo è un settore di riferimento quello della scienza che mi incuriosisce molto in prima persona e quindi voglio 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 analizzarlo nel vero senso della parola parleremo di pregiudizi di stereotipi perché è un po' come il mondo della finanza dai in cui siamo immersi noi tutti i giorni qui sulle fonti tv si crede che gli scienziati appunto come chi si occupa di finanza siano uomini che l'autorevolezza arrivi dalla figura maschile a parte non essere vero naturalmente vogliamo capire anche davvero se è così cioè se c'è ancora questo preconcetto anche nel mondo della scienza e mi piacerà capire come nasce la passione per la scienza per la mia ospite che vado subito a introdurre a presentarvi serena giacomin sicuramente la conoscerete perché è un volto noto anche della televisione serena giacomin climatologa e presidente italian climate network serena un piacere averti qui sei una delle protagoniste della nostra maratona grazie sì è un piacere tutto mio buonasera manuela a te e a tutti coloro che stanno guardando e ascoltando oggi è giusto fare le ore piccole no per un'occasione per un'occasione del genere anche se questa è la prima domanda insomma così ti chiedo un tuo pensiero sull'otto marzo anche se sarebbe bello parlarne in altro modo no dare per scontato che alcuni obiettivi sono stati ormai raggiunti che appunto forse non c'è neanche più bisogno di parlarne cos'è l'otto marzo oggi per serena giacomin e forse è un giorno importante proprio per quello per il fatto che comunque gli obiettivi non sono ancora stati raggiunti quindi occorrerebbe ovviamente parlarne tutti i giorni ma questo è sicuramente diciamo un pensiero banale però l'otto marzo ci dà ecco la possibilità magari di mettere in evidenza alcuni step che sarebbe opportuno fare nell'immediato per la parità di genere ecco donne scienza quello che leggiamo come titolo serena io ho voluto aggiungere c'è ancora molto da fare però ho detto che in tanti settori c'è ancora molto da fare ti faccio una domanda ancora più mirata sono due termini che si possono unire sono ancora molto distanti o distanti forse si stanno avvicinando ecco cerchiamo anche di dare una nota positiva no a questa a questa analisi che stiamo stiamo per fare però la distanza è ancora una distanza che necessita molto impegno ecco se parliamo anche di dati e di percentuali che sono quelli che ci piacciono tanto anche per andare ad analizzare in più profondità un problema le percentuali delle donne rispetto agli uomini impegnati nei settori scientifici a partire dagli studi ma poi anche in ambito lavorativo sono ancora delle percentuali molto diseguali quindi effettivamente molto distanti tra di loro ve ne dico uno tra tanti abbiamo solo il 28 per cento delle donne che sono forza lavoro diciamo così all'interno dell'ambito stem ecco l'ambito stem è quell'ambito che va a racchiudere le scienze l'ingegneria la matematica la tecnologia quindi sono tutti degli ambiti in cui diciamo per un nostro peggiudizio per una nostra cultura passata le donne comunque potrebbero rispetto a questa cultura avere avere degli strumenti in meno certo tu sei peraltro tra le 100 esperte stem banca dati di donne diventate proprio un punto di riferimento nelle materie scientifiche e io proprio per ricordare questo riporto una frase che tu hai scritto sui tuoi social scrivi è proprio il tuo virgolettato ricordo ancora quando dissi a un mio insegnante del liceo che avrei voluto studiare fisica all'università mi guardò dall'alto in basso anche questo dall'alto in basso me lo devi spiegare ma giacomin cosa stai dicendo allora eppure poi insomma la tua carriera ha dimostrato altro cioè che tu in realtà hai avuto un'ottima intuizione ti chiedo quando è nata la tua passione per la scienza e cosa ricordi di questo dialogo con il tuo professore al liceo sì no me lo ricordo abbastanza distintamente e tra l'altro il mio professore lo stimavo in realtà era un bravo professore diciamo anche per quanto riguarda la sua la sua professionalità certamente però in quel momento è emerso no questo pregiudizio in maniera abbastanza prepotente e credo che sia opportuno ricordarlo non tanto per fare una recriminazione ma un po' per andare effettivamente ad analizzare non solo il fenomeno ma anche le conseguenze del fenomeno stesso mi spiego meglio che cos'è che può succedere nella testa di un ragazzo in questo caso di una ragazza nel momento in cui magari riceve una reazione che può essere spontanea però maldestra in termini di suo personale orientamento e sua personale motivazione nel percorrere una determinata strada ecco io lì in quel momento della mia vita quindi parliamo di decine di anni fa avevo questo desiderio di scrivermi a fisica mossa da una passione che avevo diciamo nutrito negli anni che era quella di andare in barcavela ovviamente io andavo in barcavela su delle imbarcazioni quelle tipo i laser insomma 420 e 470 per coloro che magari hanno dimestichezza con questo genere di sport e sono delle imbarcazioni molto piccole quindi ti costringono a un contatto davvero stretto non solo con il mare ma anche con il vento nel momento in cui si pratica questo sport ovviamente occorre sviluppare non solo una capacità di osservazione adeguata a navigare con velocità e anche in sicurezza ma anche occorre sviluppare insomma un po' di agilità proprio nell'analisi di quelle che possono essere le previsioni del tempo e da lì è nato il mio percorso verso la fisica certamente ecco posso dire che al liceo come tanti ragazzi del resto ho passato degli anni in cui i miei voti ad esempio erano un po' altalenanti perché è una fase di crescita che è molto particolare però certamente spinta da quella motivazione sono riuscita a raggiungere dei risultati più che soddisfacenti e quindi se io in quel momento mi fossi messo un freno probabilmente non avrei fatto quello su cui tra l'altro sono anche più brava ecco questo è un problema bisogna lavorare molto in fase di orientamento con i ragazzi ed essere avere una sensibilità adeguata per dargli degli strumenti decisionali che siano davvero opportuni e non basati su un pregiudizio perché altrimenti purtroppo il danno che gli facciamo è un danno parecchio profondo sì esatto perché poi proprio per la mentalità che ancora abbiamo il retaggio culturale che abbiamo appunto tarpiamo le ali perché il caso proprio di dire questo è la tanto desiderata meritocrazia cioè per un processo peraltro non solo vizioso ma automatico quasi perché si ragiona con una mentalità basata su elementi del passato appunto la tanto desiderata meritocrazia non si raggiunge perché di questo si tratta lo hai detto tu cioè tu hai rischiato di non fare il lavoro per cui sei più portata questo sarebbe stato un danno per te naturalmente ma anche per la società perché ricordiamo visto che noi parliamo di argomenti economici tutti i giorni cioè dare la possibilità alle persone di approfondire le proprie conoscenze e competenze è un vantaggio per tutta la società per la società economica perché naturalmente fa aumentare notevolmente anche l'attrattività dello stesso paese è un po' il discorso che si collega a evitare che i cosiddetti cervelli italiani se ne vadano all'estero perché qui non hanno le possibilità di fare figuriamoci se il processo inizia ancora prima cioè per cui si convince un ragazzo giovane a lasciar perdere un ambito solo perché non è il tuo e chi lo dice che non è il tuo no detto proprio terra terra altro virgolettato tua serena ma perché ci porta peraltro a continuare su questo tema degli stereotipi spiego il meteo in tv hai detto durante un'intervista e pensa e pensano che sia una valletta solo perché sono donna ho deciso di affrontare gli stereotipi con la competenza ma è faticoso e infatti io ho rilanciato la domanda è possibile fare questo e io sono d'accordissimo con te di quello che bisogna fare a volte anche sdrammatizzando su alcuni pregiudizi che ci sono non è facile perché fanno male a volte no perché insomma tu dici io ho studiato mi impegno ogni giorno sono riconosciuta ma leggo il meteo e tutti pensano che sia messa lì tanto per solo perché questo è un vantaggio secondo me solo perché sono una bella ragazza perché poi anche l'occhio vuole la sua parte ma a prescindere da questo per l'uomo non capita insomma ecco è possibile cosa succede ogni giorno serena e sì bisogna un po guardare in faccia la realtà no io faccio questo lavoro da tanti anni ho anche visibilità ovvero leggo effettivamente il meteo in televisione ma nessuno sa che non lo leggo nel senso io prima di andare in onda faccio analisi dati analisi di tutte le diciamo le variabili atmosferiche che escono fuori dalle elaborazioni di super computer e dopodiché vado a fare la mia previsione del tempo che è quella che ho appena fatto ho fatto pochi minuti prima in fase di analisi ovviamente nessuno lo sa quindi c'è chi si immagina che ci sia un gobbo chi si immagina che io magari abbia una carriera da modella ed è tutto l'opposto ecco e lo dico con il sorriso un po perché effettivamente negli anni questa cosa l'ho metabolizzata ho deciso che non diventasse un freno in nessun modo ecco forse è questa la cosa che non non bisogna permettere che accada però nello stesso tempo non deve diventare un freno però bisogna essere anche onesti con se stessi cioè sarei poco onesta se dicessi o avessi anche la pretesa perché sarebbe una pretesa disattesa scusate il gioco di parole se di essere riconosciuta come un fisico no come un fisico che fa le previsioni del tempo e le racconta in tv non è così e andare a sottolinearlo spero che possa in qualche modo ridurla no con la distanza di cui parlavamo anche all'inizio della nostra chiacchierata perché i problemi bisogna prenderli di petto ecco non girarci intorno no sono d'accordo anche con appunto come detto tu bisogna anche sdrammatizzarli no è è un po il processo che che ho attivato io cioè devi metabolizzare anche alcuni pregiudizi che ci sono che ti piomberanno sempre addosso ma poi appunto attraverso la competenza ciascuno sa no cosa sa fare cosa non sa fare si va avanti certo sicuramente rispetto una volta dei passi in avanti si si vedono cioè si sono sono tangibili però c'è ancora molto da fare a volte è vero io dico sempre che si legge anche negli occhi dei nostri interlocutori che si ti stanno ascoltando ma forse hanno sempre comunque quella quella piccola dose di sospetto definisco così perché sei donna in un uomo che che se ne dica ma è una cosa è un dato di fatto è non in questo in questo caso non è polemica è un dato di fatto e lì bisogna fare il passo successivo quindi insomma speriamo speriamo che sia così peraltro proprio per anche scardinare tutti questi stereotipi e pregiudizi ricordiamo che esiste una giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che si celebra a febbraio l'undici febbraio ovvero serena è una giornata in cui si mette in evidenza proprio anche tutto il lavoro spesso sottovalutato delle donne che operano nella scienza perché sono tante ovviamente lavorano un po' dietro le quinte si è una giornata molto importante anche quest'anno comunque i movimenti sono stati parecchi anch'io ho avuto l'opportunità di partecipare a un bel evento a questa giornata che comunque una giornata istituita dall'unesco e ne sono e ne sono molto felice volendo anche anche orgogliosa e diciamo che anche in questo caso è una di quelle giornate in cui si ha la possibilità magari rispetto a tutti gli altri giorni dell'anno di andare a rivalutare i dati che descrivono il fenomeno della disparità di genere in questo caso nell'ambito scientifico andare a capire quelle che sono magari le lacune principali ostacoli ancora da superare e cercare di capire quali possono essere gli atteggiamenti che ci aiutino ad accelerare un pochettino il processo verso questa parità tanto desiderata assolutamente sì allora serena io approfitto della tua presenza qui oggi nella nostra maratona dell'8 marzo per parlare di una problematica è qui mi ci metto in mezzo io anche perché io non mi occupo di scienza ma faccio informazione proprio una problematica sottovalutata assolutamente quella dei cambiamenti climatici ovviamente bisogna mettere in conto che l'informazione in generale e quindi tutto ciò che a cascata arriva in questi due anni è stata penalizzata dalla pandemia no quindi anzi poi ho anche un'altra domanda sulla scienza proprio a proposito della pandemia però è anche vero che non si possono lasciare da parte questioni che veramente sono fondamentali per il nostro pianeta per il mondo per il nostro futuro perché appunto viene penalizzato il nostro il nostro futuro è arrivato peraltro l'ultimo rapporto sui cambiamenti climatici che lancia un drammatico appello cioè praticamente invece di migliorare si peggiora cioè l'inazione sta generando conseguenze drammatiche appunto l'inazione di cui stavamo parlando cambiamenti climatici sono una minaccia grave e crescente per il nostro benessere per un pianeta sano tutti batti tutti i giorni per questo insomma chi ti vuole seguire chi ti segue già lo sa chi ti vuole seguire lo potrà vedere anche attraverso i suoi i suoi social è così c'è ancora proprio una situazione pesante beh sì direi che non solo è pesante ma purtroppo come dicevi tu è diciamo impeggioramento ma questo perché nonostante comunque il tema del cambiamento climatico sia un tema diciamo su cui la comunità scientifica internazionale sta spingendo da anni anzi da decenni perché ormai è da trent'anni che comunque questo tema viene più che sviluppato in maniera rigorosa e approfondita però ecco quelle che sono le reazioni positive al cambiamento climatico stanno tardando ad arrivare e questo è un problema sono felice che tu abbia menzionato questo report purtroppo per i fatti contingenti di attualità è passato un attimo in in secondo piano spesso accade sul tema del cambiamento climatico perché è un problema è un problema perché il cambiamento climatico troppo spesso viene affrontato come un tema puramente ambientale ma non è così è un è un problema che ha delle interdipendenze molto forti con la società con l'economia ma che va a intaccare anche la sfera dei diretti umani anche la sfera sanitaria non a caso anche comunque il l'emergenza sanitaria e la crisi sanitaria ha delle relazioni molto importanti anche su come noi ci comportiamo nei confronti dell'ambiente dell'ecosistema anche nei confronti delle biodiversità ricordiamo che qualche anno fa ancora prima della pandemia e l'anset che la rivista scientifica più accreditata a livello internazionale riguardante l'ambito sanitario ha dichiarato a gran voce a gran forza che il cambiamento climatico è la più grave minaccia del ventunesimo secolo per la salvaguardia della salute umana quindi non stiamo parlando solo di emissioni di azioni di mitigazione di riduzione del nostro impatto ambientale quando parliamo di cambiamento climatico parliamo di molto altro gli impatti sulla società e sull'economia sono di fatti stati approfonditi dall'ultimo capitolo che è stato pubblicato il 28 febbraio quello che hai menzionato tu sull'IPCC e parla proprio di mancato benessere e quindi mancate risorse a causa dell'estremizzazione climatica a cui stiamo assistendo quindi questo dovrebbe insomma farci riflettere in maniera approfondita. Ecco e questa ovviamente la situazione è peggiorata per la pandemia no Serena perché chiaramente tutto si è lasciato un po' a margine di quella che è stata la problematica del covid sempre a proposito di quello che è accaduto in questi due anni Serena una riflessione che hai fatto sempre anche tu ovviamente si è parlato di scienza si è invocata la scienza anche abbastanza a sproposito per così dire cioè ci sono queste due fazioni no chi dice la scienza bisogna seguire la scienza chi invece sostiene che la scienza insomma non sia più da seguire proprio per tutte le fake news anche se sono circolate in questi due anni qual è l'atteggiamento giusto da avere nei confronti della scienza lo chiedo a te che la segui tutti i giorni insomma. Beh insomma l'atteggiamento giusto è un atteggiamento di consapevolezza bisognerebbe innanzitutto sapere e soprattutto anche spiegare all'interno delle scuole effettivamente come questa scienza di cui si parla tanto ma di cui si conosce troppo poco lavora no spesso e volentieri viene menzionata questa comunità scientifica internazionale che sembra un organo caduto dal cielo che lavora non so bene in quale pianeta extraterrestre in realtà in realtà non è così la comunità scientifica internazionale è uno degli organi caratterizzato da un elevatissimo grado di democrazia oserei dire forse il più elevato se andiamo ad analizzare tutti i vari processi decisionali che che caratterizzano la nostra civiltà perché succede questo perché all'interno della comunità scientifica internazionale non importa chi dice che cosa ma importa se quello che viene detto ovvero il dato è comprovato da delle diciamo da delle dimostrazioni che possono essere rivalutate revisionate a livello indipendente anche da altri gruppi di ricerca noi ecco e poi dopo da lì si scatena tutto il caos ma quello è più un caos di informazione un caos di comunicazione un caos mediatico che non ha nulla a che fare con la scienza e non ha nulla a che fare con il metodo scientifico credo che sia opportuno ristabilirlo questo diciamo rapporto di fiducia nei confronti della scienza andandolo anche a conoscere meglio perché in generale ci si può fidare nel momento in cui si capisce l'entità no e la struttura di cui ci si fida e poi magari lavorare un po ecco anche in ambito di informazione di comunicazione con chi si occupa primariamente di farla in maniera tale che non ci siano nel campo tutte queste bufale fake news e mistificazioni che tanto male fanno non solo alla scienza ma soprattutto alla cittadinanza no certo ma fanno male anche noi stessi perché guarda con azzardo no con un movimento circolare torniamo al discorso di partenza quello della meritocrazia che poi è un po il punto che abbiamo affrontato che stiamo affrontando in questa maratona chiaramente c'è non è che siamo tutti tutologi il problema è che pensiamo di esserlo c'è qualsiasi cosa soprattutto attraverso i social canali più democratici per così dire attraverso i quali tutti possono esprimersi pensiamo di poter dire sempre la nostra ma non solo perché dire la nostra ci sta in una democrazia vale no l'opinione è ben accetta quella di tutti ma senza avere il come dire l'arroganza di pensare che sia l'unica appunto l'unico l'unica cosa scientifica che che esiste al mondo c'è che la nostra sia l'unica cosa vera ecco è quello un po l'errore perché poi ci tiriamo la zappa sui piedi da soli appunto tutti possono fare tutti non esiste più poi il merito e riconoscere che una persona si debba occupare di una cosa e un'altra persona di un'altra va bene allora serena io io ti ringrazio che dire in conclusione a tutti quelli che ci seguono insomma come come buon auspicio in attesa della prossima edizione della maratona che io dirò sono contenta di farla ma se non ci fosse vorrebbe dire che non ci sono più queste problematiche insomma ma guarda così al volo mi vengono in mente due messaggi uno per le donne e le ragazze di superarlo questo ostacolo magari di metterlo a fuoco perché quando l'ostacolo si mette a fuoco in generale è anche più facile da superare quindi non farsi in nessun modo intimidire anzi cercare di trovare ecco in questo problema con cui tuttora abbiamo a che fare con l'energia e con la motivazione per andare ancora più veloci e spediti e per quanto riguarda invece tutti quanti io credo che la cosa necessaria sia senza troppi sensi di colpa provare a pensarci un attimo questo problema è effettivamente andare ad approfondirlo un attimo perché in generale quando ci rendiamo conto delle cose è anche più facile poi porre rimedio e quindi magari risolvere almeno in parte ecco questo questo pregiudizio che non serve proprio a nessuno ok poi portare avanti sempre le passioni perché anche se è un po più complicato poi insomma i risultati arrivano se sono passioni vere poi si riescono a sviluppare sperando poi di essere anche aiutati dalla società perché quello non guasta insomma dobbiamo darci tutti una mano grazie a Serena Giacomin climatologa presidente Italian Climate Network ti seguiremo naturalmente ci sarà modo di affrontare tutti gli argomenti che studi ogni giorno grazie e grazie a voi e buon proseguimento di questa questa maratona grazie Manuela buona serata grazie 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 mille a Serena e sì noi continuiamo vedete stiamo veramente percorrendo tracciando un filo conduttore tra tutto e tra tutti non solo tra le donne ma veramente tra tutti noi a tra poco